Ciao Jim, sono qui per dare il mio contributo per il tuo evento e sono molto felice per il tuo libro per l'occasione ho scelto un pezzo di Prince perché credo sia un artista che ha saputo credere tantissimo in se stesso detto ciò ti faccio tantissimi auguri per i tuoi decenni di attività ciao grazie 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 grazie